Stazione Birra, il Fight Club per eccellenza, questo è il Fighting Spirit White Day! Non guardo, non guardo. Grazie a tutti. Torna a Roma il Thai Fight Save the Date 22 aprile 2023 nella splendida cornice di Cinecittà World. Con orgoglio il team colonnese Promotion offrirà la seconda tappa romana del Thai Fight. Ma ora è già nel ring l'arbitro che sarà Fiorello Ferralis. Si sta per disputare la prima storica edizione della finale del torneo Amazing Thailand categoria 76 kg. Chiamiamo sul ring i due protagonisti. All'angolo blu per il team shock di David Erbo, Samuele Marianeschi. Grazie. Grazie. Face, 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 Face rosso per la team colonnese da Roma Riccardo Rosati! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!